Suonare piano o suonare forte? Direi che la cosa migliore da fare è suonare al volume giusto, piano o pianissimo o mezzo forte o forte o fortissimo. Abbiamo la fortuna noi jazzisti di suonare un tipo di musica molto varia dal punto di vista dinamico, oltre che stilistico chiaramente. Si parla di jazz, significa parlare di New Orleans, di swing, di bebop, di latin, di hardbob, di free, di un sacco di cose. Adeguatamente in ogni stile, in ogni epoca, a secondo del line up, della formula orchestrale, del repertorio, degli arrangiamenti eccetera eccetera, si può suonare pianissimo, fortissimo. Ricordo quando ero molto giovane una sera finito un concerto, si avvicina un anziano appassionato di jazz e mi fa bravo, non dai fastidio. Io ho ringraziato perché dal suo punto di vista era un complimento, poi ci ho ragionato e ho detto ma non dai fastidio è un po' strano, un po' riduttivo. Il suo non dai fastidio era riferito al fatto che io quando ero molto giovane avevo fisiologicamente un suono abbastanza delicato. Potevo mettermi a pestare come un matto ma non era il mio suono fisiologico. Poi nel tempo, negli anni ho anche, come dire, consolidato la muscolatura, il fatto di equilibrare i pesi sullo strumento, avere un controllo migliore sulla batteria, quindi gestire meglio i volumi, le dinamiche e il mio suono è diventato anche automaticamente più sostanzioso. Vabbè, per dire, non dai fastidio, grazie, complimento. Ecco, il non dare fastidio è giusto, noi non dobbiamo dare fastidio in quanto suoniamo uno strumento molto invasivo. Possiamo rovinare tutto se suoniamo troppo forte ma possiamo rovinare tutto anche se suoniamo troppo piano. Se siamo batteristi troppo delicati e discreti con la paura di disturbare possiamo anche non essere un incentivo, un input per il solista, per l'evoluzione del brano. Faccio anche un esempio cretino, se suoni in big band e hai paura di disturbare e te ne stai bello schiscio e accompagni senza fare nulla fuori posto, la big band casca per terra perché non dai alla big band il sostegno necessario. Se viceversa, al contrario, suoni in un trio rarefatto che suona musica intimista, meravigliosa e pesti come un fabbro, sei un imbecille, no? Quindi bisogna avere le orecchie aperte oltre che i muscoli pronti. Naturalmente, ribadisco e concludo, perché c'è poco da aggiungere secondo me, dobbiamo avere l'intelligenza di essere propositivi ed energetici a qualsiasi volume. Suonare piano non significa essere mosci, devi saper suonare piano ma essere incalzante, energetico, così come puoi suonare forte con un suono orrendo. Quindi devi migliorare anche il saper suonare forte. Dopodiché tutto il resto è gestito in base alla propria intelligenza musicale, al proprio gusto e alla propria discrezione nel riuscire ad ascoltare con attenzione a quello che ci succede intorno e sapere, imparare anche col tempo, con l'esperienza, qual è il momento in cui dare un apporto dinamico, basso, delicato, coinvolgente e ipnotico e quando invece devi tirar fuori gli artigli e spaccare tutto. Suonate il giusto, che sia piano o che sia forte. Non esiste il rock che si suona forte e il jazz che si suona piano. Queste troiate qui lasciamole dire ai pirla. Ciao. Spengo. Tic.